Ed è emersa la volontà di tutti i presenti di redare questo documento che porterà davanti al tavolo del Ministro tutte le istanze da parte degli amministratori, oltre che anche degli enti superiori, oltre che sicuramente le preoccupazioni dei cittadini in quanto non si vedono arrivare le risorse dovute un po' a questi eventi che hanno toccato il nostro territorio. Ci auguriamo che questo ci aiuti perché veramente le risorse che finora sono state stanziate non sono sufficienti appunto per andare a vedere i bisogni dei nostri territori. Abbiamo, diciamo così, di comune accordo accolto l'invito per andare a disporre una relazione che verrà consegnata al Ministro Musumeci delle Protezioni Civile assieme ad una delegazione di sindaci dell'Aldo Vicentino. Per capire i tempi e soprattutto le modalità per arrivare presto a recuperare le spese che i nostri bilanci hanno dovuto sopportare, ma soprattutto le perdite dei danni subiti dai privati. Esco fiducioso dell'incontro di oggi perché ci è stato spiegato meglio e più da vicino quali sono le fasi prossime che vedranno i territori impegnati. Dobbiamo lavorare unitariamente proprio a livello di sovraordinato, quindi bene la provincia che si mette a disposizione. I sindaci sono tutti unanimi, c'è da lavorare con la regione ma probabilmente anche con quegli enti che governano il territorio. Abbiamo di fatto ascoltato ma abbiamo anche ribadito l'importanza che il governo oggi intervenga anche per quanto riguarda l'emergenza che ha colpito la città di febbraio. Non abbiamo ancora una certezza sui fondi, non abbiamo ancora una certezza sui contributi che lo Stato metterà a disposizione non solo al nostro comune per quanto riguarda le opere pubbliche ma anche per quanto riguarda tutti i danni che i privati hanno subito. Non capiamo per quale motivo ci sia stata un'accelerazione per quanto riguarda l'emergenza di maggio che ovviamente siamo contenti che ci sia stata una posizione importante del governo ma non capiamo per quale motivo o da oggi non è ancora arrivata una risposta per quanto riguarda invece l'emergenza di febbraio.